Infatti c'è il numero 1, primo posto, screenshot, primo posto, bitches, dalla squadra, mi piace la musica e la vittoria, mi piace la musica e la vittoria Ciao carissimi, bentornati, questo è Electric Boom E' arrivato Splatoon 2 Come potete vedere io sono una bellissima ragazza perché io gioco sempre con personaggi femmina Questa è la città di Splatoon 2 da dove accedi ai negozi e alle cose magiche Sono connesso con il mio telefono in 4G, in realtà neanche 4G perché qua 3 prende male quindi è 3G Eppure riesco a giocare online e per questo che oggi facciamo un video di Splatoon 2 online in the house Per chi avesse questo gioco provvederò a mettere il mio codice amico nella descrizione Voi lasciatemi il vostro codice amico nei commenti così che io possa aggiungervi nel mio utente dedicato proprio a YouTube Così che possiamo magari giocare insieme, non lo so E spero che molti di voi prenderanno questo gioco perché è bellissimo In poche parole tipo un paintball, io mi trovo molto bene con le doppie pistole adesso E sta tutto nel verniciare più area possibile no? E non poche volte sono arrivato primo e dopo vi faccio vedere gli screenshot di quante volte sono arrivato primo Che ho salvato tutte, tutte perché sono un po' vanitoso in questo senso Tutt'altro che modesto Quindi vediamo di spaccare, di vincere uno e sperare di arrivare primi Ma bisogna anche sperare che i miei compagni di squadra facciano quello che devono Piuuuu Vernice everywhere bitches Da su la dogra va È ora di dipingere questo palazzo di questo verde acqua bellissimo Che sembra essere il mio colore preferito recentemente Almeno uno dei miei preferiti Questi stanno già colorando tutto, non mi stanno lasciando niente da colorare Quindi io sparo di sotto e qualcosa coloro anche così Uppela Già ho la mossa speciale carica quindi la lancio addosso a tutta questa gente Guardate anche se sta a distanza posso anche uccidere a distanza E qualcuno è morto, ne ho splattati due Due ne ho ammazzati Incredibile vero? Nonostante la distanza sono riuscito a ammazzarne due Morto Mi dispiace molto ragazzo Ci hai provato però non mi hai visto Tutto ok che guardi anche no? Morto Ci ha provato almeno Vediamo se c'è qualcuno qua su Uno solo Vediamo se riesco a ammazzarlo con la mossa finale Almeno ci proviamo Adesso nuotiamo un po' nel mio inchiostro Che può essere usato come modalità stealth diciamo così Molto utile però ti aumenta anche molto la velocità di movimento Oh morto Due bombe Più bombe Questa è la tattica delle bombe Morto Mi dispiace molto ragazzi ci avete provato ma Electric power is in the house E quando electric power is in the house Beh è un problema per voi Lo sapete no? Come funziona Quando electric power is in the house Vediamo se posso lanciare la mia bomba La mia arma speciale Lì ce n'è uno Forse adesso ne nasce un altro Vabbè lanciavolo a uno solo Che è morto Quindi lanciarazzi Totalmente sprecato Oh qui è venuto qualcuno Guardate ha lasciato la scia No non va bene Questa è la mia area Questa la vernicio io E tu non puoi venire qui a verniciare Quello che già ho fatto io No hai capito? Oh abbiamo lo scudo Perché uno ha usato l'abilità speciale dello scudo Buon per noi Buon per voi Wow Wow Sono morto a 8 secondi Dalla fine ci sta Può capitare anche migliore di morire ogni tanto Oh questo dove è arrivato A verniciare Ma che sta a fare? Wow Non ci siamo preoccupati? Wow Abbiamo probabilmente perso Perché non ci siamo accorti Che qualcuno ha superato Le nostre difese Io non me ne sono completamente accorto Probabilmente perché non sono morto mai E quindi non sono mai tornato All'area iniziale E questo non permetteva Ai miei compagni di rinascere Ma questo è un problema Ma che sta a scherzare? Vabbè Comunque le mie cuffie sono salite di livello Adesso mi da un'altra abilità speciale In poche parole ogni indumento che porti Può potenziarsi man mano che acquisisci esperienza E quindi imparare nuove abilità In quel caso mi sembra che potenzi il mio attacco speciale Adesso bisogna stare più attenti Mi sembrava che stavamo vincendo Perché era tutto azzurro Tutto verde acqua dove stavo io Ma in realtà ci stavano in culà Perché erano riusciti a passare da dietro Capito? Quatti quatti C'ha un culato Eh sì Modalità Mischiamo Molusca Colora Più che poi Siamo a Campus Hippocampus Siamo di colore azzurro Eh Qui non si può C'è il colore azzurro E' bello Non siete d'accordo sul colore azzurro? Beh non rompete le palle E' bellissimo Tutto azzurro voglio Hai capito Frank Tutto azzurro Frank ci prova Ogni tanto A giocare a questo gioco Ma in realtà fa schifo Lui non è in grado di giocare bene Lì già vedo dei nemici Ma io rimango qui A colorare la zona A caricare la mia mossa speciale Lì ce ne sono tre Qualcuno morirà Porca miseria Morirà qualcuno? Mi chiedo io Mi sa di no Mi sa che non sono riuscito a beccare nessuno Wow wow Bombe Ok qualcuno è morto qui Wow 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 Attenzione eh Sono un attimo nascosto Sta lanciando bombe dappertutto Morta C'hai provato Oh wow Bombe 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 No alle bombe Dite no alle bombe Via via Questo deve rimanere Bam Morta ragazza Mi dispiace Oh ci ha provato la ragazza Invece no Mossa speciale Ce n'è uno solo lì Ci accontentiamo di uno solo Mori Due ammazzate Un macello Sono caduto in acqua Sono slittato via Almeno ne ho ammazzati un sacco stavolta Ne ho ammazzati un bordello Letteralmente Io coloro anche qua Anche se siamo appena all'inizio Non importa Non importa Oh oh Un macello Cazzo Izzurro Izzurro E no abbiamo perso un'altra volta Bella figuraccia Bravo E che il punto di questo gioco Non sta nell'uccidere gli avversari Ma sta anzi nel colorare più possibile Quindi non mi devo impuntare Sulle persone che vedo Che mi stanno facendo il culo Devo puntare A riempire il più possibile Il mio colore Non sto Questo gioco ha anche una campagna In single player Molto carina Scrivete nei commenti Se volete che la porto Beh Questi non sanno Con chi hanno a che fare Non sanno che dietro A questo schermo C'è l'Electric Siamo colore arancione ora Loro sono questo colore viola Che è il colore del male Almeno oggi Rappresenta il colore di Satana E noi Siamo qui a esorcizzare il male Esorcizzare il male Del viola Quanti ne prendo? Due Va bene dai Qualcuno morirà Bene quello è morto Siamo qui al sicuro In alto Wow 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 Ho usato la mossa speciale Il bastardo eh Oh mi ha ammazzato Maledizione Bayerley SS Adesso vedrai Con chi hai a che fare Il signor Bayerley O come ti chiami Uh mossa speciale Maledetto Maledetto Non può andare così ragazzi Non può andare così Non oggi Non domani Morto Bastardo Vuole incularmi L'ora di riprendersi Ciò che è mio No in due no Porca miseria Dove sono i miei compagni Quando servono Sto da solo Forca la bidella Muori bastardo Mi voleva aspettare qui Come per dire Eh Tanto tanto Io lo aspetto qui Il bastardo E invece muo Guarda quanti missili Che ti lancio Brutto zozzo Guarda quanti missili Via via Tutto arancione Voglio qui Non si scherza qui Dove sono i miei compagni Dieci Nove Otto Cinque Quattro Tre Due Uno Bomba Niente Chissà se ce l'ho fatta Riempire abbastanza di arancione Guardate Quello al centro È tutto mio Quell'arancione Tutto mio E vinciamo Per un 0,1 Probabilmente grazie al peo Che è andato lì E ha fatto diventare Tutto arancione Di corsa Hai capito Infatti c'è il numero uno Primo posto Screenshot Primo posto Bicis Mi piace la musica La vittoria Mi piace la musica La vittoria Un'altra partita Ovvio Questo gioco è una droga Nel frattempo Sto solo consumando Il mio traffico Internet Del telefono Cioè Chi se ne frega Piccolezze Piccoli Pronti Via 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 Colora il più che puoi 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 Arma speciale pronta Oh Ci stanno lanciando i missili Colora il più che puoi 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 Oh missili Missili in arrivo Colora il più che puoi Il colore più che puoi Abbiamo lo scudo Abbiamo anche la mossa speciale carica Dove sono tutti Lì due Non mi hai visto arrivare Non mi hai visto arrivare E sei morto Perché non stai attento ragazzo Stai un pochino più attento Oh no mi ha preso le spalle Lurido Lurido Lui sta usando l'aerografo come arma Molto buono anche l'aerografo Ma non ha una buona mira Cioè non ha una precisione incredibile Quindi io lo evito Preferisco queste due pistole Mi devo ricordare che io ho la capriola Come mossa particolarmente speciale Cacchio come ha fatto a fregarmi questo Come ha fatto a fregarmi Ma qui non ha colorato nessuno Morto bastardo lurido Due lì Basta con sto verde A noi non ci piace il verde Morto bastardo Dai 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 Questa l'abbiamo vinta Questa l'abbiamo vinta L'abbiamo vinta Mi sape no Mi sape no Ho visto tutto un po' troppo verde Siamo lì lì eh Forse 50-50 Vediamo Questa è la canzone della vittoria Mi piace la canzone della vittoria Ancora primo posto screenshot Per il primo posto Primo posto in the house Visto come si gioca Adesso si che abbiamo ripreso Un po' meglio Stiamo per salire pure di livello Potrei continuare a giocare Ma penso che per il video di oggi È sufficiente No? Per ricompensarmi Voglio vedere cosa c'è da comprare Non ho capito se I vestiti cambiano ogni giorno O ogni settimana Qui Mi sembra qualcosa ogni giorno Tipo mi compro questa felpa Soltanto perché costa tanto Sì E non le indosso però Grazie Qui ci sta un cappello Che non ho Vale la pena comprare più o meno tutto Perché fai un sacco di soldi E quando cambiano i vestiti Almeno compri le robe nuove Qui ci sono le armi Come potete vedere C'è il rollone C'è il pennello C'è il secchio C'è il gatling Porca miseria C'è il lanciagranate Gusta Gusta C'è un sacco di robe strane C'è stanno le infradito Queste le compro così Tanto per E manco le indosso Compriamo anche queste Così Chi se ne frega Chi se ne frega Te stavo dicendo Codice amico di Peo Lo vedete qui SW782516606700 E questo è il profilo Dedicato a Youtube Non quello con cui ho giocato Ma se vedo che ricevo Parecchie richieste di amicizia Inizio Splatoon anche con questo Con questo account qui Per giocare insieme Perché è uscita anche L'applicazione per la chat vocale Per il telefono Che non so Come andrà a finire Perché è sempre meglio Parlare tramite il gioco Che la chat sia inclusa nel gioco Ma no Hanno voluto fare l'applicazione Vediamo un po' Come va a finire Intanto io vi saluto Se questo video vi è piaciuto E la bravura di quest'uomo Beh non scordate di lasciare Un bel po' di amore pulsante Lì sotto a forma di pollice in su Sempre ricordando Che questo è il vostro caro Amico di quartiere Electric Buurrrr